Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Futbol qui a cercare di creare il calcio Inter, stellare per voi oggi Secondo episodio di martedì, un Inter che è partita fortissimo in questa terza divisione Per adesso sono 3 su 3 Vediamo chi è il prossimo avversario, tra l'altro avversari neanche così semplici Avversari tutti che parte di terza ma quello è normale, ma più che altro avversari che arrivano in prima stabilmente Quindi partite equilibrate, abbiamo Barcellona Inter a Barcellona Chissà che non sia il vero Barcellona, vedo Koundé quindi si parte bene se si vuole pensare al vero Barça Centrocampo, incredibile, anche Devrae in formissima e ci piace Attacco direi normale, Dumfri sta bene Bissek, Bissek ragazzi, devo far giocare a Bissek Sì dai ragazzi, facciamo giocare a Bissek Facciamo giocare a Bissek al posto di Pavar E lo mettiamo anche in avanti La mettiamo anche in avanti Quindi abbiamo Lautaro Mbappé, Cancelo Musiala Eh, scelta interessante Io la marcatura adesso la metto su Musiala perché non so poi su Cancelo come ci gioca E ci siamo Bissek è in formissima, finalmente pronto anche lui per giocare Chissà che non sarà decisivo come lo è stato nella realtà domenica Da sabato poi E l'Inter a battere il calcio inizio contro il Barcellona si parte Turamma che allarga Poi Ciala, un po' lezioso in questo caso Poi Miki, bravo Poi anche Bissek, molto molto diciamo in proiezione offensiva Poi Barella che l'alza per Murkurs, Turamma che però sbaglia l'appoggio Bissek, bravissimo in copertura Poi Dumfries che va da Mkhitaryan Che ha spazio Il cross al centro C'è Lautaro Che colpisce di testa Anticipa il difensore Ma Ter Stegen la fa sua Poi Bissek a dominare in anticipo Poi la palla per Dumfries Sulla destra di nuovo a cercare Mkhitaryan Miki, che giocata Per Turamma Si salva il Barcellona Marquinhos fa un intervento Difensore sublime Che giocata di Mkhitaryan Magari non elegante Ma non importa E' chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori Giocare Bissek Cross però Forse è un po' il cross Mamma mia che varco Mamma mia Sommer Qui ragazzi lo abbiamo spostato di nuovo Direi che ha funzionato E Bissek Che va a rilanciare C'è Ciala a combattere a centrocampo Barella col pallone Di nuovo per Dumfries Tutto un po' in difficoltà Terrà che prova a uscirne in qualche modo Poi Devrei che vada Di Marco Cercare c'è la Noglu Riceve il pallone Serve Donfries E qui Poi col pallone Non ho capito che ha fatto Barella di nuovo l'anticipo C'è Lauti Lautaro a giro E' cieco dell'Inter Lautaro qui Prima la finta L'inversario ha coperto su Di Marco Che si era infilato Lautaro ha fatto la finta Rientrato Sul piede più forte Ha calciato a giro Mamma mia Bissek Che chiusura Poi devrei a spazzare Di nuovo devrei A recuperare questo pallone Marcus Turam C'incisca un po' sul pallone Alla fine lo perde Attenzione E c'è il gol Il gol di Sommer Onestamente Mi fa un po' impressione Come si è intervenuto Che perché L'intervento sembrava Qui Lautaro Per un po' non riesce A darla a Turam Dicevo C'è il tiro che sembrava Molto centrale Se devo essere onesto Tino per Lauti Hanno provato questo 1-2 Di Marco e Lautaro Eh vabbè Mamma mia Devo un fris Altra parata di Sommer Mamma mia Ragazzi dura Col contro piede Ragazzi stiamo Stiamo difendendo peggio E La devo dire Bissek qua Si vede che Si vede che non è un top difensore Poi Turam A fare A difendere Palla che passa E' brutto errore Del Barca Con Lautaro Però che non riesce A proteggere questo pallone La palla in avanti Bissek in ritardo Poi ancora un po' Di confusione La palla per Miki 1-2 1-2 Con Adunfres Può andare Mkhitaryan Che guadagna il fondo Il cross al centro È tutto solo Gialla Arriva all'ultimo secondo A salvare Mamma mia Quanto ritardo In queste No ragazzi Attraversato dal pallone Quei E bastoni E salva tutto In avanti Percianoglu Prova a distendersi l'Inter L'Audi Travolto E qui Sempre in avanti E finché In marcatura Ci va Bisse E clavetotura Palla spazzata via C'è Barella Che prolunga Con un regalo Miki A dare una mano Come un treno A tornare indietro Puoi allargare Per Ciala Di prima Cercare Lautaro Se ne va Lautaro Che calcia male E a quel punto Era pressato Sbagliato Dovevo forse Rallentare un secondo Ma buona la gioia di Lautaro Che ha provato Un'altra giocata In solitaria Stiamo soffrendo Tantissimo Bissek In fase difensiva Dai Devrega è tua Infatti Lo è Ancora per Miki Che si era infilato bene Centralmente Palla in avanti C'è Bissek In copertura Che riesce a fare Quello che deve Che pare A creare superiorità numerica Servire Cialanoglu indietro Ancora Ciala con il numero In aria Cercare Lautaro L'imbucata A coprire benissimo Con De Palla in avanti C'è Di Marco in anticipo Male però Poi Ciala di nuovo A recuperare il pallone Qui Laudi di prima Forse un po' Di fretta Bissek in anticipo Perturamme in aria La parata Di Ter Stegen Qui Fallaccio Su Dumfries Perché Musiala È arrivato In ritardo Dove si è assoffiato Via il pallone Andiamo a prendere corta Dumfries Ciala che l'alza Cercare proprio Dumfries Ha provato A coprire Direttamente in avanti Diciamo che Schema di gioco Dell'avversario Abbastanza chiaro E Barella Che allarga Per Dumfries Centralmente A cercare Mkhitaryan Di nuovo A cercare Dumfries Peccato Balla che non passa Mbappe Ha tirato fortissimo Sommers L'ha fatto trovare pronto 1 a 1 1 a 1 All'intervallo Bravissimo Bissek In chiusura Qui c'ha la Di prepotenza Riprendersi questo pallone Di nuovo Per Lautaro Ancora Per Lautaro Che prova Ad agganciare Questa palla Non riesce C'è il Barça Adesso Può ripartire Con Cancelo Bissek Bissek Che Prima Prima non ci riesce Poi si Qui Però Sbaglio in questo caso Invece Mamma mia Mamma mia E c'è il gol C'è il gol di Mbappe Ma Le Bissek Ragazzi Quanti se ne sta perdendo Mamma mia Fallo Fallo per Inerazzore Guarda Michi ragazzi Tanto tempo Per questi passaggi Noo ragazzi No Ragazzi no Ma le Bissek Quanto arriva in ritardo Ragazzi Perciò Ci arriva Di Marco In qualche modo Per L'Audi Che calcia Che bella Zina Che stare Lentro E qua ragazzi Devo togliere Assolutamente Bissek Che mi sa Che prendo Anche il prossimo Dico il così Perciò In aria Che non sbaglia E 2-2 Inter E Giocata Molto 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 Simpatica Ciola Si infila Perfettamente Mi spiace Per Bissek Non ci siamo Diamo che È difficile Per uno Come Bissek Quando ci sono Tanti terminali Offensivi Sono praticamente Due attaccanti Più Un paio Di Ali Peccato Ragazzi Abbiamo provato Dobbiamo toglierlo Per evitare Di perdere La partita Bravo qui Marcus Ancora Perciò Che si infila Tra l'altro Lato C'è Michi Poi Donfres al volo Col sinistro Qui Ci siamo fatti Prendere Tra la tentazione Di calciare Ok Non bisognava Calciare Forse Controllarla Prima Magari Sarebbe stata La scelta Megliore Peccato E Donfres Che è tua Questa Buona Per Michi Wow Ma mia Prateria Per l'Inter C'è Marcus Turam Visto Servito Marcus Tra l'altro Per l'autoro Che non può Sbagliare 71esimo 3-2 Inter Io non so Che buco enorme Ha lasciato La difesa Avessimo Devre Qui Mamma mia 1-2 Stupendo Può andare Marcus Turam Che non sbaglia Davanti Al portiere Grandissimo 1-2 Ancora De Nera Zuri E 4-2 Inter Buono Il fraseggio Dell'Inter Ancora Spazio Per Donfres Sulla destra Che scende Va a cercare Marcus Turam 1-2 Perfetto Donfres Può andare Da solo Sulla destra Guadagna il fondo Cross al centro Viene recuperato Da Franz Beckenbauer Intervento Importantissimo Marcus Turam Comincia a sentire Le pene Della fatica Ma direi che lo possiamo tenere ancora un pochino Più che altro Ruoli in partita Devo mettere Devo rimettere Pavar Proprio adesso mi serviva Manco a farlo apposta Inter con il gol del 4-2 Che si rimette in posizione un po' più tranquilla Dai Pavar In aria Te avrei calcia Indietro Ci ha provato qui Turam Poi Barella a recuperare C'è C'ha la NoGlu Che calcia col destro Con D Eh con D Terci tagger in due tempi Pala in avanti Attenzione Dunfris deve tornare Bravo Dunfris Che va di nuovo da Mkhitaryan Altre praterie sulla destra Miki Se l'ha giusta Cross al centro C'ha la solo Ma come Ma come era anche il tiro sensazionale Ragazzi Anche il tiro sensazionale Non ha senso Non ha senso quello che ho visto E Lauti Con il numero Se ne va Non riesce A servire qui Di Marco Sulla sinistra Che stava andando Bravo Dima che se la riprende Può andare Di Marco Centralmente Di nuovo per Lautaro Che dovrebbe essere Rientrato al fuorigioco E così E bravissimo con D A leggere le intenzioni Del capitano prima Barella pure però Poi ancora Gialla Stavamo pronto Di nuovo a calciare Pavara A chiudere tutto Poi sbaglia L'appoggio Attenzione In avanti Fa buona Guardia Di Avri Ma era fuorigioco Però Era fuorigioco Tanto si era pure fermato Aveva perso il tempo Ma si era fermato appunto Per rientrare Da fuorigioco Non in tempo Non passa questa palla Di Laudi Purtroppo Bravo Bastoni che gliela tocca Tanto che basta Poi per Barella Bravo Miki ancora per Don Fritz Che guadagna il fondo Arriva il cross al centro Non ci arriva nessuno Però vediamo Se ci ha La riesce a tenere in campo Ma è impossibile Novantatresimo Entra ancora In forse inoffensivo Precisa però Nell'ultimo passaggio Entra comunque Controla poi il regalo Lautaro 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 Qui non calcia Potestardo il capitano Avrebbe potuto fare Decisamente meglio In questa occasione Valle in avanti C'è Don Fritz Addirittura ha superato Però la palla è comunque Dell'Inter Indietro Per Barella Non c'è più tempo Brividi Brividi Ma questa partita però È una bocciatura Per Bissek È comunque una bocciatura Per Bissek In questa partita Purtroppo Ha visto movimenti Proprio sbagliati In generale Si è visto E diciamo Il problema c'era Nonostante questo però L'Inter la riprende Senza troppi problemi Ha altra vittoria Di fila Ragazzi Quindi sono 4 su 4 In terza divisione Questo avversario Non so se Ci arriva in prima Eh ci arriva sì in prima Eh ci arriva come in prima Tra l'altro Anche più alto di noi Ragazzi È tutto per l'episodio di oggi Non dimenticate di lasciare un mi piace Ragazzi che mi aiuta tantissimo E vi ringrazio per questo Ci vediamo alla prossima